Una grande bellezza, sono delle pure emozioni nell'orchestra sia anche nelle voci, ma è molto molto complessa, quindi vocalmente anche ognuno deve fare tutto il possibile. E Jonas Kaufmann, il tenorissimo, come lo chiamano i suoi ammiratori in tutto il mondo, il protagonista della Gioconda di Amilcare Ponchielli, che andrà in scena al Teatro San Carlo dal 10 aprile con un'anteprima in programma per domenica per festeggiare i 30 anni di palcoscenico di Anna Netreb, col soprano attualmente più quotato del panorama lirico. Per me è un momento molto emozionante perché lavoro con lei da tanti anni e dire che adesso festeggiamo 30 anni già di carriera è bello. Con loro un altro grande nome, il baritono francese Ludovic Tessier. In scena anche Evmo Yubo, che sostituirà Anita Rashvelishvili, inizialmente prevista nel ruolo di Laura. La Gioconda, capolavoro di Ponchielli, fu rappresentata per la prima volta nel 1876 al Teatro alla Scala, a Milano, libretto di Arrigo Boito, vicenda ispirata ad un dramma di Victor Hugo, ambientata in una Venezia seicentesca. Regia di Romain Gilbert, coreografia di Vincent Chaillet, scene di Etienne Plus, costumi di Christian Lacroix. Sul podio a dirigere l'orchestra del San Carlo ci sarà Pincia Steinberg, repliche fino al 17 aprile.